Le donne sono le prime a pagare il prezzo della crisi. Spetta ai comuni il ruolo fondamentale di lotta al divario di genere, garantendo scuole, asili nido e trasporti pubblici di qualità. Così Pina Picerno, europarlamentare del PD, ha il dibattito donne, PNRR e lavoro nel settore della comunicazione, moderato dal segretario generale SLC CGL Napoli Gianluca Daniele. L'Italia è indietro nelle classifiche sul gender gap e le donne hanno estrema difficoltà a detenere posizioni di comando, posizione sostenuta da Alessandra Tommasini, coordinatrice nazionale salute e sicurezza della SLC CGL. E' sicuramente un argomento che la CGL ha sempre considerato centrale in tutte le discussioni che riguardano non soltanto la costruzione di una società migliore, la capacità di superare quel gap gender tra il ruolo dell'uomo nella società e nel lavoro e quello della donna, ma soprattutto è fondamentale perché crediamo fortemente che con la qualità e la professionalità che tutte le donne possono esprimere all'interno del mondo del lavoro, possa essere sicuramente un fatto positivo e di miglioramento dell'intera società. Al dibattito, introdotto da Annalisa Velotto, responsabile coordinamento donne della SLC CGL Napoli, hanno partecipato Emanuela Spedaliere, direttore generale della Fondazione Teatro San Carlo, Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, Elena Coccia, avvocatessa e già consigliere comunale metropolitano di Napoli, Maria Giovanna Capone, giornalista di Il Mattino, Cinzia Massa, segretaria CGL Napoli, Giulia Guida e Sabina Di Marco, segreteria nazionale SLC CGL. Ascoltiamo Cinzia Massa e Giulia Guida. Avere un tavolo al femminile significa voler denunciare una situazione che è una situazione che soprattutto al sud viviamo con grande difficoltà, quella della disparità, della diversità tra uomo e donna. Perché non siamo riusciti ancora né a contrastarlo né a superarlo, anzi, forse oggi più che mai, anche a fronte di un cambiamento della nostra società e sicuramente dove la pandemia, anche la modalità con cui ognuno ha modificato il proprio approccio verso l'organizzazione della vita, ma soprattutto del lavoro.